Ho visto un video e poi ho detto vada a farmi la doccia Mentre facevo la doccia ho detto no cazzo io non ce la posso fare Devo dire qualcosa, guardate Te stanno a sostituir Lukaku Koen Sighi e tu sei contento Ma guarda, ma guarda Io sarei preoccupato fossi te, poi fa come te pare Ma guarda, guarda che non c'è tutta sta differenza Vabbè Ma noi possiamo sentire certe cose Noi possiamo perdere il nostro tempo ad ascoltare sta gente che dice Enesiri non c'è tanta differenza con Lukaku Uno 67 gol in carriera, l'altro 260 gol Non c'è tanta differenza Non c'è tanta differenza E noi dobbiamo ascoltare sta gente che dice certe robe, va bene tutto Ma dire certe cose veramente non si possono sentire Cioè veramente vuol dire che tu di calcio non capisci nulla Tu ste cose non le puoi dire Ma come fa? Cioè ma voi cosa ne pensate?